Oggi un video brevissimo perché quello che c'era da dire l'abbiamo detto tutto ieri, ci sono gli scenari che mi aspetto sono in realtà questi. Allora, innanzitutto vediamo se rompiamo questa trendline dinamica che si è venuta a creare, perché rompere questa trendline dinamica e avvicinarsi a questi massimi, questi massimi che ha fatto qualche giorno fa, vedete, in questa situazione, ci porterebbe inevitabilmente proiettati a fare un ottimo, probabilmente, io dico la mia e a cosa mi sto preparando, un ottimo rialzo. Un rialzo potrebbe essere anche veloce, perché potrebbe essere veloce? Perché sicuramente qui ci saranno tante posizioni, qui tante posizioni che hanno preso short, ok? Di conseguenza qui ci potrebbe essere anche uno squeeze molto veloce, staremo a guardare, me lo aspetto, io intanto so cosa fare se dovesse rompere questa situazione, altrimenti, come avevo detto ieri, potremmo riattestare semplicemente l'impulso, andare a fare, quindi se andiamo a cercare un nuovo minimo potremmo andare nella zona questa qui, che è 0,25, 50%, andiamola a vedere anche con il ritracciamento di Fibonacci dove saremmo nel caso, teoria quartile, eccolo, io aggiungerei, eccolo qui, 50%, questo qui, se dovessimo scendere per iniziare a provare un'ipotetica schematica dovrebbe farla qui dentro, altrimenti scendere ci porterebbe a farla al 75% dell'impulso, eccola, intorno ai 40.000, sulla zona dove aveva fatto questo piccolo, diciamo, accumulo, ok? Quindi, in realtà sono tre scenari, quindi il primo long da subito, gli ultimi due scenari, long al 50% o comunque sia il ritracciamento di questa ipotetica lagdown, e andiamo, altrimenti, al 75%. Se noi andiamo a vedere sul 15 minuti cosa che faccio di rado, però mi va di farlo vedere, semplicemente perché adesso tolgo questo, questa schematica qui, io l'ho spiegata, questa schematica qui, l'abbiamo spiegata sul video per gli abbonati, ma proprio, è proprio così, è la schematica, eccola, questa qui, questa schematica qui, l'abbiamo spiegata bene, molto bene, school canale. Di conseguenza, io aspetto questo movimento di bitcoin, ma se dovesse rompere, se dovesse rompere, so già cosa fare. Il video finisce qui, era solo un upload del video che poi farò, questa è una panoramica del video che poi farò, quindi grazie a tutti, supportatemi, mi raccomando, e ci vediamo presto.